Penso che lui sia di Imola, un applauso per Renato Bertone, per voi ributto a Castellina Pasi, ho ragione di dire che sei di Imola? Certo, c'è il Casal Fiumonese. Casal Fiumonese, la Fisamonica l'ho? È in boscata, valla a prendere il microfono qua? Sì. Ci sono due brani anche per Renato Bertone, io ne vi sono scritti ma è meglio che lì. Allora lui mi pare che esegue Torna Castellina, ve le do e poi fai Fisamonica in festa, vero? Da cosa partiamo? Visto che abbiamo appena fatto una polca, partiamo da Torna Castellina che è un grande classico a tempo di valser che di solito anche le nostre serate li richiedono sempre, è uno dei valser con il beat, il campanello, perché il cane e ovviamente zingano sempre per più richiesti. Siamo pronti? E lo facciamo? Un applauso, vai 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 con l'applauso. E lo facciamo? Un applauso. E lo facciamo? Un applauso. E lo facciamo? Un applauso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.